Mi sono domandato perché nella primavera, il quadro più importante di Botticelli, ognuno dei personaggi indica un numero diverso con le dita. Perché il pittore era ossessionato da Dante? Cosa ci voleva comunicare? Il Rinascimento e alcune delle sue opere più famose mi hanno dato lo spunto a cui mi sono ispirato per questa storia. Mi piacciono i libri d'azione, i thriller che affondano le loro radici nell'arte e nei misteri del passato. Leonardo, Raffaello, lo stesso Botticelli, tutti hanno celato nelle loro opere simboli che devono essere decodificati, simboli che nascondono una chiave per comprendere il vero significato della Divina Commedia. La chiave di Dante è un romanzo in cui i ritmi serrati, gli inseguimenti, le morte misteriosi si mescolano con una caccia al tesoro tra arte e letteratura come non l'avete mai letta. Ma qual è il segreto che Dante ha nascosto tra i suoi versi? Scopritelo con me nella chiave di Dante. 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 Grazie a tutti